Grazie Presidente. Presidente Conte, lei ha sbagliato tutto fin dall'inizio. Doveva fare come hanno fatto alcuni suoi colleghi di altri paesi, pochi in realtà, tenere aperto, poi chiudere, poi ripensarci. Ma perché poi per contrastare una pandemia lei si è rivolta a degli scienziati? Affrontare una pandemia rivolgendosi a dei medici è una scelta incomprensibile. Ma perché poi dire a tutti di restare a casa? Perché non andare avanti come se nulla fosse? Perché aver messo al primo posto la salute di tutti? E perché quando contavamo 7-800 morti al giorno addirittura utilizzato i DPCM? Cioè i decreti che permettono di intervenire immediatamente. Colleghi, colleghi, per favore, per favore, prego. è stato appellato come dittatore. Addirittura qualche giorno fa i parlamentari della Lega hanno inneggiato una novella resistenza antifascista qua dentro. Devo notare accolto un po' freddamente dai loro vicini di Banco di Fratelli d'Italia che alla parola antifascista un po' sono rimasti freddi. Poi in tutto questo lei aveva l'ardire di parlare in conferenza stampa e presentarsi a volte mezz'ora di ritardo. Ma poi perché non ha fatto come gli altri paesi, Presidente? Andiamo a vederli gli altri paesi. Colleghi, 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 facciamo continuare. Bartelli, possiamo far continuare? Deputato Sasso, per favore. Prego. Grazie, Presidente. Colleghi, colleghi, così ci impieghiamo solo più tempo. Prego. Grazie, Presidente. Allora, negli altri paesi, in Francia hanno riaperto alcune scuole l'11 maggio, ma alcune le hanno già richiuse, alcune decine. In Svezia, il modello svedese, come qualcuno già lo chiamava, oggi ha il tasso di contagi più alto in Europa. La Spagna ha iniziato a riaprire a metà maggio, ma a Madrid e in altre zone c'è ancora il lockdown. In Inghilterra pensavano di tenere aperto e proteggersi con l'immunità di gregge. Oggi sono in lockdown e ci rimarranno fino a giugno. Ma anche economicamente andiamo a vedere. Andiamo a vedere il PIL. Nei primi mesi del 2020, Francia e Spagna hanno perso più dell'Italia. Io capisco che citare il paese che fa meglio e non gli altri venti che fanno peggio sia comodo per chi la deve attaccare. Ma chi l'attacca propone un modello amministrativo sanitario? Quale propone? Il modello Lombardia? Vede? Lei? Lei presidente? Colleghi, 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 deputato Rixi. Facciamo concludere. Colleghi, 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 deputato Rixi, deputato Rixi. Facciamo concludere. Poi avrete il vostro intervento. Panizzut, per favore, la mascherina. Deputato Panizzut. Coind. Per favore, facciamo andare avanti. Zoffi, dobbiamo fare andare avanti. Concludiamo e poi avrete il vostro intervento. Lei, presidente, poteva fare come l'assessore Gallera, che in conferenza stampa arrivava puntualissimo e annunciava che in Cina si faceva meglio, in Lombardia si faceva meglio di in Cina. In Cina hanno messo dieci giorni a costruire l'ospedale, in Lombardia sei. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini lombardi. Deputato Ferrari. Deputato Ferrari. Gli ha spesi la Lombardia. Colleghi, deputato Ferrari, per favore, per favore. Lei ha avuto la fortuna anche di lavorare con l'ex sottosegretario Giorgetti che la ricetta per la sanità gliel'aveva data. Aveva detto, ma chi ci va più dai medici di base? È finita quella roba lì. E si è visto. Si è visto come è andata. Si è vista come è andata quella politica iniziata niente po' di meno che da Formigoni. Lui e il centrodestra e il Lombardia hanno tagliato in poco più di vent'anni 25 mila posti letto pubblici, assegnando il 40 per cento delle risorse, la sanità privata e non contenti perché... Ma tanto io continuo a parlare anche se voi urlate. Deputato Ricciardi, deputato Ricciardi, si rivolga a me, si rivolga a me, deputato Ricciardi. Allora, la delibera della legione Lombardia ad inizio marzo. Il presidente Luca De Gani, parole sue, associazione di categoria che mette insieme circa 400 case di riposo, chiederci di ospitare pazienti con i sindomi Covid-19, è stato come accendere un cerino in un pagliaio. Colleghi, tornate ai vostri posti. Colleghi, 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 dovete tornare ai vostri posti. Questo governo ha stanziato 80 milioni finora, 80 miliardi con le proprie forze e ha avuto la capacità di dire e di articolare soprattutto una proposta in Europa che di fronte a una crisi come questa deve essere senza precedenti. L'Europa non può permettersi di andare a due velocità, perché anche quei Paesi che pensano di andare avanti, se si ritroveranno col deserto intorno, saranno immediatamente anche loro stessi travolti e stritolati da altre economie mondiali. Nessuno quindi si illuda di salvarsi se non ci salveremo tutti insieme. E noi tutti non possiamo più pensare con gli schemi che avevamo prima, perché siamo di fronte a un bivio, o la salvezza o il disastro. E come governo dobbiamo essere uniti nel mettere al centro l'economia reale e non la finanza, le politiche espansive e non l'austerità, ormai completamente fuori dalla storia. E sfidare anche i tabù, quei tabù del deficit PIL, del debito, bisogna avere il coraggio di farlo insieme. Lunedì scorso è stato molto emozionante rivedere e aprire le attività e vedere anche lo scrupolo e l'attenzione dei nostri commercianti nel far rispettare le faticose ma necessarie cautele. A tutti loro deve andare il nostro ringraziamento, perché stanno davvero rendendo un servizio al Paese. E, Presidente, dobbiamo fare di tutto per correggere quello che non ha funzionato, perché lo dobbiamo al nostro popolo straordinario. E il suo scusarsi qualche tempo fa in una conferenza stampa rispetto ai ritardi che ci sono stati è segno di grande serietà, di intelligenza e di umanità. Uno scusarsi sincero che però ha dietro di sé la consapevolezza di aver fatto tutto quello che umanamente fosse possibile, in un Paese che sconta ovviamente problemi burocratici trentennali, come ha ricordato, che non sono scomparsi col virus, anzi, sono riemersi in tutta la loro forza. E da lì dobbiamo ripartire per guardare al futuro. E lo dobbiamo agli italiani agli italiani, un popolo che era aperto con tanto entusiasmo ma con paura appunto di quello che accadrà. Un barista sotto casa che ha donato tutta la vita al suo bar mi ha guardato e mi ha detto con la cassa integrazione io tiro avanti per qualche mese ma poi se i turisti non tornano. Lo smart working, se fate tutti lo smart working fate colazione a casa, non venite a fare colazione qua. Sono queste le paure che dobbiamo affrontare e superare. Per fare questo la parola fondamentale è transizione. Noi sappiamo che ad esempio se la direzione è lo smart working allora gestiamo con intelligenza la fase per arrivarci in termini di ricaduta solo indotte sui diritti dei lavoratori. Pensiamo all'ambiente, a quanta mole di rifiuti ovviamente produrremo con i dispositivi di protezione individuale e pensare che incentivare le tecnologie che invece danno dei dispositivi di protezione individuale lavabili e rinnovabili è un grande servizio all'ambiente e un grande servizio all'economia. Saremo una società che per molto tempo non si vedrà più sorridere per strada perché sorridiamo con gli occhi perché abbiamo la bocca nascosta dalle mascherine e noi non sappiamo ancora tutto questo cosa significherà ad esempio nei più piccoli. La mancanza di contatto con gli altri bambini, non percepire il sorriso che è appunto la prima immediata interazione che hanno i bimbi e non solo loro. Lì c'è il nostro futuro e dobbiamo mettere in campo ancora di più tutte le azioni di sostegno per mitigare questi piccoli grandi drammi. In conclusione Presidente sa chi e cosa giocherà un ruolo fondamentale in tutto questo? Un settore di cui si parla poco, quello della cultura e degli artisti che possono raccontarci quello che abbiamo provato perché mai come nei momenti tragici un Paese ha bisogno di raccontarsi. Raccontandosi ci si può ritrovare e si può elaborare questo trauma collettivamente perché sostenere il cinema, il teatro, le musiche, le arti è un servizio che dobbiamo innanzitutto ai lavoratori del settore, troppo spesso nella vulgata comune non considerati tali e poi al benessere di tutti noi. Chiudo col vecchio adagio che riguarda proprio questa cosa? Si dice che quando si chiude un teatro non si chiude soltanto un edificio, si chiude l'abitudine di andare a teatro e questo vale per tutto. Dobbiamo ritrovare l'abitudine a rivivere in comunità. Grazie Presidente.